Sium! Anzi, siup! Va bene, chi sta andando me lo accollo però, eh, nonostante anche lui sia ovviamente di un'antipatia unica e irraggiungibile me lo accollo il giocatore più forte del calcio di tutta la vita l'abbiamo appena trovato è una carta che è un giocatore che io ho molto a cuore quasi piango dall'emozione mi ha fatto vincere e mi ha regalato veramente tante soddisfazioni credo per me proprio un giocatore che simboleggia in assoluto modo il calcio, il gioco del calcio forte sotto ogni punto di vista italiano e sto parlando del signor Marco parolo e le sue doppiette al fantacalcio yes colui che ti risolve la domenica un grande un grande tegamino ma è un clickbait oh 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 ma che tier list di merda è boke live di merda mamma mia ho i svegliati ho i svegliati ho i svegliati